Dopo tante promesse mancate hanno deciso di bloccare le attività, atto estremo di un'avvertenza che va avanti da anni e che interessa i dipendenti del centro diagnostico salernitano Celisa di Fratte. Uno sciopero ad oltranza scattato dopo l'assemblea straordinaria dei lavoratori, stanchi di non ricevere risposte da parte della proprietà sul pagamento delle mensilità arretrate, ormai secondi sindacati giunti a 14. Ambulatori ed attrezzature di diagnostica, fermi quindi nella sede salernitana del centro, da sempre un punto di riferimento nel settore. Una novità rispetto al passato, nonostante il braccio di ferro tra organizzazioni dei lavoratori e d'azienda vado avanti da tempo, infatti sino ad ora i servizi erano sempre stati garantiti. La pazienza è finita ma purtroppo sono finiti i soldi, sono finiti i soldi per venire a lavorare. Noi tutti qui oggi ci siamo astenuti dal lavoro perché ci tengo a precisare che oggi noi non abbiamo fatto sciopero, ma non siamo entrati arbitrariamente. Questo per sensibilizzare sia l'opinione pubblica sia la proprietà che credo che, anche se credo che non sortirà nessun effetto, visto che in ben 14 mesi non abbiamo avuto il piacere di avere nessun contatto con lui. Una scelta precisa è quella dello sciopero ad oltranza adottata dai sindacati per poter trattare direttamente con la regione Campania. Credo che oggi ci siano le condizioni legali perché l'ASL attraverso la regione possa e debba intervenire. Perché ci ha sempre detto che fin quando c'è attività noi non abbiamo diretto contatto con i lavoratori ma con l'imprenditore e fin quando esse saranno fatte noi non abbiamo il modo di poter intervenire. Oggi ci sono le condizioni. Quindi a partire da oggi l'ASL sicuramente dovrà comunicare alla regione che dal 18 non c'è più attività al centro diagnostico cedisadifratto. Quindi l'ASL dovrà assolutamente intervenire. Si continua a lavorare invece alla quiete, altra struttura che fa parte dello stesso gruppo, dove però i sindacati hanno inoltrato tutta la documentazione degli avvocati per eventuali interventi giudiziari. Dopo il mancato pagamento della prima rata delle spettanze arretrate.